La rigenerazione dei depuratori d'acqua situati nel territorio marsicano avverrà in 252 giorni, con un intervento complessivo di 12.800.000 euro, provenienti dalla regione Abruzzo. E' questo l'obiettivo per il 2016 del Consorzio Acquedottistico Marsicano, cosiddetto CAM. Il progetto è stato illustrato dall'amministratore delegato del CAM e dal consigliere alla gestione. I depuratori da rigenerare sono quelli di Avezzano, Trasacco, Tagliacozzo, Carsoli, Celano e Capistrello, mentre quelli di Gioia de Marsi, Lecce de Marsi e Ortucchio sono da potenziare. Un altro lavoro di adeguamento riguarderà il completamento della rete fognaria della località di Camporotondo, grazie alla copertura di 400.000 euro. Per quanto riguarda i depuratori di Scurcola Marsicana e Luco de Marsi, sono stati inseriti in un finanziamento stanziato dal Governo, il cosiddetto Sblocca Italia, per un totale di 2 milioni di euro di fondi. Abbiamo raggiunto un grande risultato, dicono i vertici del CAM, poiché la Giunta del Lazio ha riconosciuto il debito pregresso di 2 milioni di euro e dunque aspettiamo la delibera del Consiglio regionale per recuperare quei soldi. Entro il 2016 contiamo di recuperare anche altri 6 milioni di euro, tra amorosità e utenze sommerse. Per quanto concerne i debiti, stiamo snellendo la struttura del CAM e per il momento abbiamo chiuso i conti aperti con i fornitori locali. Il CAM, è stato detto dai vertici, ha anche acquisito finanziamenti attraverso 12 gare di evidenza pubblica che hanno puntato non al ribasso dell'offerta, ma al valore tecnico della proposta progettuale, perché una depurazione più completa ed efficiente significa risanare i debiti accumulati con le precedenti gestioni. Tra i depuratori da rigenerare, quello di Rio Pago otterrà il maggior numero di fondi, 2 milioni circa di euro. Poi ancora a seguire quello di Avezzano con un milione e mezzo di euro, quello di Carsoli con un milione e duecentomila euro circa ed infine quello di Ortucchio con un milione e seicentomila euro. Grazie.